ciao a tutti i prodotti terminati del periodo prodotti terminati passiamo ai detersivi ho finito questo chanteclair vert parimenti eco detergente ipoallergenico profumato con oli essenziali e fiori di meno infatti è buonissimo profumazione da mille da un litro molto molto buon consigliatissimo poi ho finito del green emotion il detesivo per lavatrice ipoallergenico nickel chrome cobalto piombo test efficace anche freddo alla lavanda mi è piaciuta abbastanza un buon profumino comunque buono ve lo consiglio poi cadendo tutto ho finito il winnish naturel ammorbidente concentrato e questo non me ne parlo più perché tanto sapete che è uno dei miei preferiti non c'è niente da fare compratelo 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 poi ho finito l'angolo zero calcare della home circus ci sono le tabs anti calcare si no ho finito la scatola poi facciamo food facciamo food facciamo il primo ho finito i misura dolce senza, gli scoppi da colazione, i nostri referiti, actimer, finti actimer, dice mio papà, bontanova white drink e carrefour biancomangro. Poi ho finito il Casablanca classic e il caffè istantaneo, poi detersive, possiamo metterci anche questo, questo era il panno carta, poi c'è un bello pezzino, infatti non do più, devo ricomprarlo, il panno carta del giocciotto, era più intensivo e poi ho finito il soft plus quadrotti cotone della Skin Station, questo qui, carino, sconvolgente, ho finito il taroc, il taroc non si dice, dupe di Chanel, di Chanel, e questo ne avevo presi tre, negli anni, avevo finito tutti praticamente, Chanel di Chanel è molto buono, benissimo, ho finito questo, maschera al carbone vegetale purificante naso, della Royal Beauty, molto molto buono, io ve la consiglio, ve la stra, stra consiglio, perché vi toglie tutti i peli che avete, tutti i fintimeri che avete. Poi, l'ultima categoria è abbigliamento, mi sono finite queste calzine del fitness, se vedete, si sono slabrate e bucate, quindi le buttiamo, queste le usavo per fare il palestro in casa, perché hanno tutti i gommini, per vedere le buttare, e ho finito lì questa borsa che avevo preso qualche anno fa, da coglisse, questa taglia di borsa mi piace tantissimo, adesso è un po' tutta ciancigliata, però questa taglia qui mi piace un sacco, però è tutta distrutta, rotta, ha passato le bioniche, se cotta la pelle, finita pelle, le devo buttare, ho finito anche la L'Oreal Paris Excellence Scream, che ho fatto la tinta l'altro giorno, ho finito la L'Oreal Paris Excellence Scream, la tinta per i capelli, colore nero, che l'ho fatta l'altro giorno, ho finito la L'Oreal Paris Excellence Scream, che è il decorante quello Roll On, e ho finito la Quisillotta, andorose, tonico infrescante. E niente, i prodotti finiti sono finiti, vi ho detto quelli che vi consiglio e quelli che... è uguale, lasciate un like e un commentino di supporto a questo canale, iscrivetevi ovviamente, e niente, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao ciao! Grazie a tutti!